Arcella più bella per un mese, dal 5 luglio al 4 agosto il Parco Milkovic diventerà un giardino estivo con dentro arte, musica, eventi e dibattiti. Finalmente l'Arcella sul giardino estivo era ora e la nostra associazione in collaborazione col Comune è finalmente riuscita a dare vita a questa realtà e come detto poco fa sarà un parco aperto veramente a tutti, con musica prevalentemente durante venerdì e sabato però è aperto tutti i pomeriggi e dai bambini a magari i meno bambini ci sarà spazio veramente per tutti. Arcella bella è il nome di questo happening lungo un mese che metterà a disposizione due palchi nella nuova area concerti, appuntamenti culturali e un'area di ristoro con bar ecosostenibile. Gli organizzatori, tutti under 30, invitano tutti gli universitari. L'Arcella, hanno detto, è il quartiere di Padova dove abita il maggior numero di studenti del BO, più che nel tradizionale portello.